Giovanni Lattanzi della Fondazione Sandri Il pubblico è stata veramente stupenda, i ragazzi ci hanno omaggiato dei loro ricordi, delle loro sciarpe e poi di un gran bellissimo tifo e questo è quello che a noi piace, cioè vedere una bellissima giornata di festa come è stata oggi, un bel gioco sul campo e un bel gioco sugli spalti. Ecco, come nasce l'accordo con la società del Presidente della Starza? Noi da tempo abbiamo annunciato l'idea di fare lo sponsor solidale per tutte le squadre, il Presidente ci ha cercato e noi subito siamo venuti a Latina perché siamo onorati di poter contribuire e loro contribuire con noi. Questo per noi è un bellissimo messaggio che il calcio a 5 vuole dare per tutto quello che possiamo fare anche per lo sport. Stefano Scala per Mondofuts al TV